Siamo benvenuti a questo primo video qui ti parlo del modo friggio allora il modo friggio è praticamente partendo sempre dal modo ionico scala maggiore di do maggiore appunto il quarto il terzo modo della scala in una scala minore si chiama scala friggio e parte dalla volta di mi praticamente mi fa sol la si do e quello che cambia è in pratica che la terza in realtà uno direbbe è maggiore perché mi fa sol in realtà no perché in pratica v'è indietro di uno dato che il fa non c'è distanza di uno di un tono ma di mezzo al semitono quindi in pratica il mi non ha spazio non c'è un tono tra il primo e il secondo grado quindi fa prima seconda è minore quindi crea che la terza è minore quindi crea questa sorta di questa nota oscura dark, molto oscura molto agressiva proprio che è un semitono ed ha quella nota caratteristica della musica araba o spagnola anche se bisogna dire che la scala che usano gli arabi gli spagnoli è un altro non è esattamente la frigia la frigia è una scala molto usata l'infinita molto usata ed ha questo senso di ribellione di aggressività di pressione molto forte molto muscolare la scala l'altra è la dominante la dominante la scala frigia dominante perché viene da una scala minore armonica ed è un modo maggiore frigia maggiore e il quinto modo è la scala minore punto armonica e questa scala c'è praticamente questa scala è un po' diversa dall'altra è un po' diversa dall'altra e sono più semitoni rispetto all'altra e la differenza questa è proprio la scala classica spagnolizzata questa è proprio la classica scala spagnola allora adesso ti vado a trovare la come è composta allora primo grado do secondo grado partendo dal do 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 di jesus poi c'è il primo grado è maggiore non è minore primo grado è maggiore secondo diesis do diesis mi quarto e fa quinto sol sol diesis e la diesis invece invece un altro se fosse modo tradizionale sarebbe do verrebbe fuori questo do do diesis poi mi diesis poi fa son sono 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 lievis non liesis si e non Che c'è la schiena che dice l'osso? C'è la prossima!